I rincari continuano a picchiare duro sui bilanci delle famiglie, ma sono soprattutto le imprese ad essere in allarme, con alcuni settori che rischiano il default. Infatti, le bollette energetiche hanno raggiunto livelli insostenibili e sembra una corsa senza fine. Per questo, la CNA di Pesero Urbino chiede l'impegno congiunto di tutte le forze politiche, al di là delle rispettive posizioni e degli esiti del voto del 25 settembre. Michele Matteucci e Moreno Bordoni, presidente e segretario dell'Associazione di Categoria, hanno ricordato lo sforzo profuso dal governo a partire dalla fine del 2021, con azioni volte ad attenuare l'impatto del caro energia. Ma il fenomeno è talmente grave che tali misure non sono state sufficienti a compensare bollette che ormai pesano 3-4 volte di più sui costi aziendali. È una condizione che da molti mesi riduce la competitività delle imprese, mettendo a rischio riprese e occupazione, oltre a potersi tramutare in una pericolosa spinta inflazionistica. Allo stesso tempo, rimane alta l'attenzione sulla necessità di garantire le forniture in vista dell'inverno. Sono necessari interventi strutturali, ha aggiunto il segretario, per scongiurare un lockdown produttivo del settore industriale. Bordoni, anche nella provincia di Pesero Urbino sono già arrivate delle bollette shock? Sono arrivate delle bollette shock, la situazione è molto preoccupante ed effettivamente possiamo dire che è sfuggita di mano. Soprattutto le aziende più energivore, mi riferisco ai settori manufatturieri, in maggior modo metalmeccanica, settore del mobile, sono arrivate delle bollette maggiorate anche del 350% rispetto all'anno precedente. Quindi davvero una situazione molto preoccupante e la tempestività in questo momento diventa essenziale per la prosecuzione dell'attività. Quindi sono diversi i settori in crisi ma anche a rischio chiusura? Assolutamente sì, soprattutto in questo momento le aziende più energivore, quindi come dicevo prima quelle manifatturiere che hanno avuto dei rincari clamorosi che non possono poi riversare immediatamente sull'utente finale, quindi la scelta è in questo momento assorbire il costo o chiudere l'azienda. E secondo lei quali sono le misure urgenti da mettere in campo? Ma qui siamo in una situazione estrema, così come qualche anno fa abbiamo dovuto fare cose estreme per fronteggiare la pandemia, lo dobbiamo fare per questi rincari assoluti dell'energia che sono da un lato dovuti alle varie situazioni internazionali, ma c'è tanta speculazione, quindi il governo deve intervenire in maniera urgente perché la tempestività qui farà la differenza è immediata con un decreto che metta dei tetti massimi a questi rincari che sono davvero vergognosi e che rendono la vita delle imprese e delle famiglie impossibile.